Attentato incendiario nel cuore della notte e danni della pizzeria Le Dune di San Piero Vernodico. Erano passate da poco le 2.30 quando fiamme di origine dolosa sono state appiccate al gazebo esterno dell'attività commerciale gestita dai fratelli Vincenzo e Giuseppe Pascarito. Danni lievi fortunatamente per la struttura di via Brindisi, anche se le lingue di fuoco hanno annerito la facciata esterna della pizzeria. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della locale stazione e della compagnia di Brindisi. I militari vogliono capire se si tratti di un episodio legato al racket delle estorsioni o si tratti di un dispetto nei confronti dei titolari dell'attività. Non è la prima volta che l'attività dei due fratelli viene fatto oggetto di attentati incendiari. L'anno scorso ad essere presa di mira fu l'omonima pizzeria di Lido Presepe nella marina di Torchierolo. L'ultimo attentato e danni di una pizzeria a San Piero Vernodico invece si è verificato meno di un mese fa. Era il 24 febbraio scorso quando in piazza Domenico Modugno prese misteriosamente fuoco la pizzeria Old Frack distruggendo buona parte del locale. Gli investigatori sono quindi a lavoro per comprendere se vi sia un ritorno di fiamma del racket delle estorsioni.